Grazie a tutti. Sarà ricoverato qualche giorno perché deve fare degli accertamenti, diciamo degli esami, ricoverato in medicina uomini e vi porto i suoi saluti e ciao. Quindi stasera non c'è Marco, il consigliere anziano è Doroten, per cui è Doroten che gestirà il consiglio comunale. Partirei io con l'appello per poi passare la parola a Doroten. Sagrini, assente. Unibosi, assente. Bulling, presente. Acerbi, presente. Sartoni, presente. Vanetti, presente. Poli, presente. Mancurti, presente. Rivola, presente. Benassi, presente. Giacometti, presente. Prego. Ecco, buonasera, buonasera a tutti. Punto uno, comunicazioni. Non ci sono comunicazioni stasera. Punto due, presentazione e svolcimento di interrogazioni. Niente? Sì, interrogazioni, cioè nel senso che, essendo l'ultimo probabilmente consiglio, non credo che abbia senso fare interrogazioni, nel senso che intanto non ci sarà la possibilità di rispondere. Però credo che volessimo, anche con Mirko, chiedere alcune cose su questa delibera di giunta comunale che è stata fatta in giunta comunale, e già lì mi trovo contrariato, sulla convenzione tra il comune di Casola e Riolo, nella vece del suo rappresentante dell'Unione, e l'assengo ben per il rinnovo del piano estrattivo. Non so quanti della maggioranza l'abbiamo letta, visto che è stata fatta in giunta e non in consiglio. Beh, io credo che rappresenti la parola fine all'attività estrattiva di Casola. Credo di poter affermare che, avendo sottoscritto quello che c'è nella convenzione, che è questo babbocchio qui, i cinque anni del rinnovo, che appunto era legato chiaramente al rinnovo del piano estrattivo che è stato fatto un po' per scorso, non mi ricordo, ma esattamente, va in essere i cinque anni, ma di fatto saranno gli ultimi cinque anni. Perché i presupposti che soggiacciono a questa convenzione, sappiamo tutti che i piani estrattivi si fanno di cinque anni in cinque anni, però dopo la scadenza di questi cinque, con i presupposti approvati in questa convenzione, la vedo molto difficile, non per la prossima giunta, chiunque sia, perché cinque anni cadrà nella prossima dopo ancora, però di fatto sarà impossibile richiedere un'ulteriore proroga. Potrei leggere il fatto che i presupposti sono il riconoscimento di tutti i vincoli che furono evidenziati dal piano, dallo studio della Regione, dal profilo B. Quindi viene riconosciuto che lo studio della Regione era corretto, cosa che questo stesso Consiglio ha disconosciuto, con ordini del giorno approvati all'unanimità, dicendo che non era corretto. Quindi ci stiamo contraddicendo. E posso dire che vengono riconosciuti 370.000 m3 di estrazione, che sono quello che è rimasto e che appunto varrà per i prossimi 3-4 anni di estrazione, dopodiché è finito. E che viene riconosciuto che non si deve valicare il profilo appunto del precedente piano del 2001 e di tutti i vincoli precedenti, che sappiamo che non si poteva scrivere in questo piano di valicarli, perché presupponeva un lavoro di cambiamento. Ma nel momento in cui questa Convenzione viene firmata così, dubito che parallelamente si possa fare un lavoro di cambiamento. Perché noi come Comune riconosciamo che tutte quelle cose sono vere e che non si cambierà mai più niente. Oltretutto in un punto c'è scritta proroga nella Convenzione che questa proroga non ci può prorogare. Cioè massimo di un anno e dopodiché è finita. Quindi per non farla lunga, questa Convenzione... A me non è che mi interessa di tenere aperta la cava sine die, però questa Convenzione di fatto è il documento che l'UNESCO vuole per poter chiudere la faccenda in sospeso tra cinque mesi. L'UNESCO aveva bisogno di un documento che ci fosse scritto una data di chiusura definitiva dell'attività estrattiva, questo documento presenta una data definitiva di chiusura dell'attività estrattiva. Che contemporaneamente a questo si possa portare avanti poi quel cambiamento, quella revisione delle cose, io ne ho molti dubbi. A questo punto ogni politica industriale, sociale è lecita, non ritengo però che sarebbe il caso che chi firma questa cosa se ne assuma la responsabilità politica di fronte alla comunità, agli elettori e ai cittadini e abbia il coraggio non in giunta ma in consiglio e di fronte ai cittadini e al paese tutto di dire noi abbiamo quattro anni di attività industriale, dopodiché è finita la faccenda. Chiudo dicendo soltanto che per me possiamo tranquillamente cavalcare l'UNESCO, io ci ho lavorato per l'UNESCO, lo considero una cosa meravigliosa, però se come comune, a prescindere da chi ci sarà e tutto il resto, come comunità anzi non come comune, decidiamo di credere nell'UNESCO e va bene, è bellissimo, e quindi decidiamo che per pressioni politiche, che conosco benissimo e so che ci sono, non possiamo contestare questa decisione che ci vede obbligati a chiudere questa attività però allora rimbocchiamoci le maniche e pretendiamo di avere dei vantaggi dall'UNESCO che non è l'UNESCO di Parigi che ce li deve dare perché non paga l'UNESCO ma è la gestione del patrimonio UNESCO che ci deve dare dei vantaggi e allora chiedo e dico a chi si candiderà Maurizio sarei il candidato della prossima coalizione di sinistra che se questo è il destino dell'attività industriale di quello invece dell'UNESCO sappiamo che nella candidatura che è andata in itinere, è andata in corso e che è operativa e che questo documento perfezionerà c'è anche un piano di gestione del patrimonio UNESCO c'è un piano manageriale diciamo che presuppone chi, come e in che modo verranno gestiti i finanziamenti cioè i finanziamenti che arrivano non da Parigi ma dal governo centrale, chiunque ci sia dal Ministero della Transizione Ecologica o come verrà chiamato ma arrivano direttamente quindi dal governo centrale non a Casola, non all'Unione, non alla provincia alla Regione che poi li girerà direttamente a un ente gestore chiamato Club UNESCO che sta istituendo un ufficio preposto ad hoc per armonizzare la gestione a Bologna quindi già molto lontano noi, noi comune, in questo club non ci siamo questo è scritto nero su bianco sul piano di gestione UNESCO che è andato io se crediamo nell'UNESCO pretendiamo che quel piano di gestione non vada in itinere così perché altrimenti noi l'UNESCO lo vediamo passare come di freccia rossa alla stazione di Castel Bolognese non fermano quindi credo come dire che va bene l'UNESCO va bene il turismo ma vediamo di farne parte e questo non ce lo daranno se non decideremo di disconoscere quel piano di gestione e dire non ci sta bene perché in quel piano di gestione ci stanno soltanto i dipartimenti di scienza della terra di Modena, di Reggio Emilia e di Bologna cioè accademici che decideranno come gestire i finanziamenti da Roma al parco e al tutto, come dire, il parco come tassello del bene UNESCO quindi decidiamo perché se perdiamo la cava e perdiamo l'UNESCO possiamo anche andare a casa scusate se sono stato un po' lungo No, volevo soltanto per quello che so chiaramente in merito a quella delibera mi sono sentito anche questa mattina con Silvio in merito a questo tema perché diciamo così c'era un po' di rumore nell'azienda proprio dovuta ai Facebook che sono usciti che avrebbe chiuso la cava e via discorrendo allora intanto questo è un atto che l'abbiamo fatto anche 5-6 anni fa ogni 5 anni anche se la cava dura da 20 anni sostanzialmente si approva il piano dell'attività estrattiva per i 5 anni per i 5 anni adesso la delibera non l'ho fatta io io l'ho letto e quindi il concetto è questo qui che i 5 anni quello che è stata la novità che tutti credevamo che ci fosse lo sconto di un anno perché un anno era già passato invece i 5 anni sono dalla data di stipula della convenzione la convenzione viene stipulata il 2 maggio è già stato fissato il notaio con la Sangobain e l'unione dei comuni che firmerà il dirigente Lucio Angelini e il 3 è arrivata la convocazione oggi alla Sangobain che me l'ha confermata Silvio ci sarà la conferenza dei servizi in regione e per poi finire l'iter di approvazione del piano estrattivo per i prossimi 5 anni poi quella stessa convenzione dice che c'è un eventuale anno di prologo perché come è stato nell'anno precedente nel periodo precedente c'è sempre un anno per poter rinnovare la convenzione successiva è chiaro che si apre tutta una discussione intanto voi vi ricordate che in sede di Consiglio Comunale noi abbiamo approvato il piano delle attività attrattive perché senza il piano delle attività attrattive non sarebbe stato possibile neanche concessionare questi 5 anni qui perché è uno strumento urbanistico che serve per poter fare diciamo poi tutte le litre conseguenziali che sono uno e questo qui di concessione dell'escavazione per i prossimi 5 anni è chiaro che sarà un dibattito che si aprirà con la prossima amministrazione quello che riguarda la cava del gesto e quindi anche l'attività chiaramente della Sangobank che è direttamente collegata io credo che il comune di Casola più volte credo anche il sindaco che stasera non c'è e si sia in qualche modo dichiarata per trovare tutte le strade per poter trovare le soluzioni che ci permetterà la legge non so se questa legge ci permetterà di poter chiedere un allargamento della della cava comunque si farà tutto quello che è possibile per salvaguardare l'attività estrattiva e l'attività della Sangobank perché noi tutti sappiamo quanto sia importante quella realtà per caso la valsegno adesso non entriamo sulla questione di quello che sarà il futuro perché oggi praticamente questo sarà l'ultimo consiglio comunale prima delle elezioni quello che vi posso dire è che quell'atto era fondamentale per dare i prossimi cinque anni alla Sangobank poi di qui a cinque anni la Sangobank ha condiviso anche quel documento che io ho condiviso con la Sangobank gliel'ho mandato l'abbiamo guardato insieme e quindi diciamo da questo punto di vista qui credo che sia stato fatto quello che la legge prescrive poi scusa Andrea che sia il consiglio comunale o la giunta io ti dico dall'Unione dai dirigenti dell'Unione ha detto che era un atto di giunta che andava fatta io su questo non sono sicuro ma attenzione sulle competenze non è che lo dice lo decide l'Unione lo dice con l'articolo 42 del testo unico degli enti locali che fa riferimento no però su questo bisogna essere precisi perché non per difendere gli uffici però solo per dire ve lo leggo ce l'ho davanti rispetto a quelle che sono le competenze poi dopo per carità nel merito non ci entro e ci mancherebbe non è mia competenza però sulla eventuale competenza del Consiglio ecco lì ho più dubbi perché l'articolo 42 che stabilisce delle competenze specifiche al Consiglio quando fa riferimento alle convenzioni fa esclusivamente dice e leggo la norma convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e province punto dopodiché come sapete benissimo la competenza residua che stabilisce appunto il testo unico degli enti locali è data all'aggiunta quindi sul fatto che l'aggiunta fosse legittimata ad adottare e quindi ne avesse la competenza nulla a questo poi dopo nel merito ovviamente qui mi zittisco sono stato l'unico a spiegare a perdere tempo e a fare decine di riunioni con questo Consiglio in un accordo reciproco di maggioranza e minoranza per affrontare questa questione poi sei mesi fa questo Consiglio di amorosi sessi si è interrotto nel senso che io non ho ricevuto più nessuna partecipazione alle riunioni comunicazione e coinvolgimento nell'operazione appunto di coinvolgimento fino a questa convenzione che chiaramente è di competenza della Giunta ma che aveva il dovere morale perché la politica è fatta anche di doveri morali di essere condivisa con il Consiglio e con chi aveva speso due anni appresso a questa questione oltretutto essendo una questione non di competenza di tre persone ma di un'intera comunità vi leggo leggo un dettaglio perché poi se no carta canta e le parole volano allora scusate ho bisogno degli occhi la prosecuzione dell'attività estrattiva viene proposta questo è l'atto in coerenza con quanto previsto due punti dallo scenario 4 individuato dallo studio ARPA e del 2001 è il vecchio piano estrattivo quello scaduto ormai da anni senza ampliare l'attuale superficie assentita ma continuando la coltivazione mediante l'approfondimento degli scavi nella zona già prevista e non si poteva fare altrimenti però questo è scritto nero su bianco quello che si poteva fare altrimenti è il passaggio successivo dallo scenario B si accetta lo scenario B individuato dallo studio commissionato dalla regione Emilia Romagna nel 2001 relativo alla valutazione della componente ambientale paesaggistica socio-economica in relazione al possibile non è del 2001 è del 2021 infatti c'è anche un refuso al possibile proseguimento dell'attività estrattiva al polico regionale del gesso è lo studio che abbiamo contestato per due anni come consiglio e abbiamo detto che non valeva nulla e che tutti sanno che non vale nulla perché si basa non su dati di cantiere ma su indagini bibliografiche e contesta la quantità di gesso residuo quello studio andatevi a riprendere gli atti che abbiamo fatto come consiglio l'abbiamo contestato e abbiamo detto che non lo riconoscevamo questa convenzione la accetta dice che è vero ok della recente pianificazione di settore individuata dalla variante quella che abbiamo fatto quindi da questa gabbia di ferro questa convenzione non può uscire quindi sì possiamo pensarci anche fra quattro anni e mezzo ma questo si chiama precedente e fa giurisprudenza perché dal punto di vista amministrativo ogni atto si somma al precedente se noi come consiglio accettiamo questo la vedo difficile che qualunque altro consiglio possa dire no lo studio lo scenario bid lo studio del 2021 era fasullo ma come l'avete accettato quindi questo atto e torno a ripeterlo chiude l'attività estrattiva di Casola fra quattro anni e chiunque dica al contrario mente io dico che bisognerà vedere perché non è che cioè io credo a quello che dici tu come posso credere a quello che mi hanno detto gli uffici quindi la tua parola è quella che ho sentito cioè io non è io io quello che dico che sulla cava bisognerà ragionare step per step e quindi andare avanti con quello che ci siamo sempre detti e credo che questo sia la strategia poi nell'ambito dei programmi elettorali nell'ambito delle prossime amministrazioni si vedranno quelli che sono gli indirizzi che ognuno dovrà prendere questo sicuramente su questo siamo perfettamente d'accordo però allora ribalto e poi chiudo chiudo perché mi taccio perché sennò abbiamo dei punti da affrontare prometto che mi taccio e come dire se tu dici e credo nella tua buona volontà è che la questione si affronterà step by step credo che abbiamo affrontato molte volte in questo consiglio i passi necessari ad affrontare la questione sempre facendo tra parentesi che io non voglio tenere aperta la cava appunto per sempre perché è un mio vezzo non ci lavoro però di fatto 150 persone di caso la ci lavorano quindi credo che sia un problema politico da affrontare in questo senso sappiamo tutti benissimo che i vincoli che soggiaciono a questa impossibilità sono di due prima e adesso tre ordini di grandezza tre ordini giuridici uno rete natura 2000 con un perimetro due praticamente il piano territoriale del parco che abbiamo più volte chiesto che non venisse approvato in comunità del parco così come ci era stato rimandato al mittente con tutte le richieste di cambiamento ribocciate è chiesto a chi di dovere che doveva approvarlo di respingere e non è stato fatto quindi anche questo lo ritengo un tradimento del mandato che il consiglio si era dato da un certo punto di vista tre il vincolo morale più che politico dell'UNESCO perché l'UNESCO si può uscire come si entra ma diventa un vincolo morale diciamo più un ricatto morale che 17 comuni applicano più la regione nei confronti di un singolo comune casola che se si agita troppo tutti ce l'hanno con lui perché parliamoci chiaramente c'è una pressione regionale e di 17 comuni nonché a più alti livelli perché tutti si tacciano su questa faccenda questa è la realtà dei fatti il re è nudo è così adesso se vogliamo tacerci va bene però se non vogliamo tacerci e cambiarle le cose i passi sono semplici lo sappiamo tutti si fa una domanda da parte del comune che deve essere ratificata e portafatta sua dalla regione di revisione dei confini di rete natura 2000 quanti mesi sono che lo stiamo dicendo di farlo? 24? e questa domanda è partita dal comune di Casola? anche perché una volta che parte la regione deve fare la sua con le resistenze che possiamo immaginare metta quindi bisogna prendere la scarpa come Khrushchev e sbatterla sul tavolo e dire no ci siamo anche noi se questa cosa non si fa non diciamo che le cose si faranno step by step perché questi sono gli step perché una volta che arrivasse anche a Bruxelles con la regione che la fa sua Bruxelles che non gliene frega scusatemi il francesismo nulla del nostro vincolo di rete natura 2000 di 10 metri perché parliamo di 10 metri si prende però i suoi tempi burocratici sono lenti in Europa che magari sono 24 mesi un anno due anni quindi ci vuole del tempo e quindi questi sono gli step se mi fate vedere o chi verrà tra due mesi mi fa vedere che questi step sono in itinere io sono il primo a dire scusate ho sbagliato se non me li fate vedere nessuno può dire che tra quattro anni questi step iniziano perché poi ce ne vogliono altri cinque e sappiamo che una società che ha quattro anni di gesso residuo fra tre anni e mezzo impacchetta tutto e se ne va questa è la triste ma reale realtà il resto va beh basta mi taccio l'unica cosa che volevo aggiungere è questa che però non so se è questa la sede di cui bisogna fare queste cose però quello che è certo è che dando questi cinque anni alla Sangobin e io dico mi auguro che la prossima amministrazione qualsiasi essa sia perché non sappiamo ancora chi sia nel senso che ci va alle elezioni dovrà vedere che sarà la prossima amministrazione è comunque chiaro l'impegno di diciamo sostanzialmente cominciare un iter burocratico per arrivare ad ottenere dei risultati con tutte le problematiche che ci potranno essere ma è giusto quello che dice Andrea l'iter è quello ma io aggiungo una cosa che questo è il mio pensiero noi bisogna che facciamo squadra con Riolo Terme perché quando noi parliamo di allargamento della cava se un terzo ma lo stimo così a occhio se un terzo è sotto il territorio di Casola due terzi forse di più è sul territorio di Riolo allora se non facciamo a livello locale un discorso unico per partire almeno dalla base a sollevare un problema che è un problema della vallata del segno e non è solo un problema di Casola dico io ecco a questo punto l'iter di qui deve partire poi quelli che saranno gli inghippi li vedremo e li risolveremo step per step è chiaro che come dice giustamente Andrea non si può aspettare quattro anni e poi alla scadenza del quinto anno cominciamo a mandare via la pratica questi anni che bene o male per non fermare l'attività produttiva abbiamo dato alla Sangobin e alla Sangobin è chiaro che di fronte a cinque anni se io fossi un imprenditore se lo fossi io non investirei più niente perché dopo cosa c'ho davanti è per quello che dico che bisogna partire a seduta stante abbastanza velocemente io non ho mai partecipato al consiglio del parco perché non ero io delegato andare al consiglio del parco per cui tutta quella storia che dicevi tu relativamente al parco io non voglio entrarci in merito perché no potrei dire no potrei dire delle fesserie per cui non le voglio dire non essendo profondamente documentato però quello che è certo è che e qui non parlo a nome mio o a nome di una parte eccetera casola non si può permettere questo quindi il tentativo con molta risolutezza non così raccontiamocelo va fatto e poi ognuno ci prenderà le sue responsabilità c'è la provincia la regione Natura 2000 lo Stato eccetera per qualsiasi motivo ci prenderanno le loro responsabilità io dico che non ce le possiamo prendere noi a livello locale nel senso che noi dobbiamo fare quello che è l'iter per salvaguardare quella situazione e poi ti dico non so io credo che bisogna che si muovino entrambi i comuni questo è quello che penso io e quindi è fondamentale non c'è nessuna volontà con quella precedente e neanche con questa amministrazione di fare sponda su questo problema siccome questa amministrazione rimarrà in carica per i prossimi due anni ancora non credo che cambierà anche chiunque venga in questa qui di Casola la vedo dura è chiaro che siamo in una situazione adesso che nei prossimi due mesi dovrà esserci una svolta anche amministrativa a Casola per cui bisognerà vedere quale sarà la svolta amministrativa a Casola e dopodiché bisognerà rimboccarsi le maniche e andare avanti però credo che quest'atto qui condiviso anche con la Sangobain che ripeto il 2 firmano dal notaio Castellari la convenzione e il 3 è già stata convocata oggi la conferenza dei servizi che poi dopo sfocerà nella delibera regionale che prenderà dentro tutto quello che deve prendere dentro convenzione tutto quanto è una convenzione che alla regione piace perfettamente perché è quella che volevano cioè la regione è contentissima di questa convenzione però se noi facciamo questa convenzione Andrea loro si fermano come si però sai cos'è ho promesso che mi fermavo il discorso è che se l'avvertenza industriale si apre perché si fermano i riflettori si accendono e il problema diventa reale se facciamo finta che questa qui porti avanti le faccende l'UNESCO va in porto benissimo e nel momento in cui va in porto l'UNESCO e diventa definitiva l'iscrizione UNESCO diventa molto più politicamente difficile lo sappiamo tutti fare due passi del gambero indietro e dire no abbiamo scherzato perché in quel momento se poi dopo inizia l'iter allora l'UNESCO torna indietro e chi si assume la responsabilità politica di cancellare il patrimonio UNESCO una volta che è confermato cioè è questo rimane praticamente l'errore è stato fatto strada facendo questo sì step by step perché sì però io l'ho detto a tutti i consigli in cui si approvava qualche cosa in Unione in Regione io mi ricordo i consigli c'eri pure te in Regione quando abbiamo votato il dossier praticamente UNESCO al buio ci è stato negato di vedere la copia del dossier UNESCO che modificava i perimetri di Cava abbiamo chiesto perché non ce lo date e ci hanno risposto è segretato è sensibile eppure l'abbiamo votato quindi step by step ci siamo buttati né cappio al collo questo adesso si stringe e ci soffoga io su questo vedremo insomma ha chiesto la parola a Mirko Ciacometti io mi chiedo rimandiamo tutto alla prossima amministrazione qualunque sia perché non abbiamo rimandato anche questo tanto fino a ottobre c'era tempo per rinnovare questa convenzione non scadeva adesso infatti loro c'era Silvio che voleva assolutamente rinnovare la convenzione perché se no era in difficoltà e in tre anni non siamo riusciti come ha detto Andrea a fare nulla con Riolo pensiamo di farlo dopo aver firmato questa convenzione che tra l'altro come gli altri atti è ampiamente incompleta perché se ti chiedo quali sono i 20.000 metri cubi che scavano a caso difficilmente lo sai perché non c'è una cartina c'è un numero un mappale e boh agli atti non c'è nulla compreso una serie di omissi quei dati li raccoglie la provincia quelli dell'escavazione ho capito lì se approvi qualcosa vorrai sapere cosa approvi nel dettaglio della convenzione si fa riferimento a quanta superficie in metri quadri è interessato da questo 5 anni di attività divisa tra superfici escavabili e superfici di servizio strade annessi dividendole poi per competenze comunali chiaramente il grosso 80% ricade in tutti i casi nel comune di Riolo una parte ricade nel comune di Casola e lì mi sono stupito perché noi non estraiamo nel comune di Casola da molti anni perché non c'è più perché i gradoni sono tutti nel comune di Riolo e siccome però conosco il piano B ho avuto il dubbio che quei 20-30.000 metri cubi estraibili nel comune di Casola che dal punto di vista economico a noi sarà zero siano parte del famoso set di protezione visiva che fu fatto per evitare che a Casola si veda il buco a norma di legge e che il piano della provincia scenario B ci suggeriva con fare disinteressato e anche un po' diabolico vi piace scavare scavatevi quello che avete lì che ce n'avete tanto che non ci aumenta la vita della cava di una virgola però in compenso ci regalerà una visione più bella del buco di fronte che si vedrà molto meglio siccome ci sono dei mappali di Casola che non si capisce perché chi comunque sia stato in cava io la conosco metro a metro sa che non scanno scavando in questo momento sul territorio di Casola se ci sono tot e metri quadri che sono descritti qui in Casola evidentemente si verrà a scavare sul fronte davanti quello dove è stato già tra virgolette rinaturalizzato quindi aspettiamoci di avere un nuovo skyline noi per salvaguardare quello di Riolo di là andiamo avanti andiamo al terzo punto dell'ordine del giorno approvazione dei verbali della seduta consigliare del 28 marzo 2024 osservazioni andiamo ai voti favorevoli astenuti contrari un astenuto punto 4 rendi conto gestione 2023 approvazione schemi e approvazione conti giudiziali relatore vice sindaco Morizio Nati bene grazie allora cercherò di andare abbastanza velocemente tenendo conto che poi questi documenti facevano parte della delibera voi fermatemi quando ritenete il caso di farlo puramente facciamo una discussione subito dopo appena ho illustrato questi slide dove io ho riassunto un po' il conto consuntivo del 2023 che è stato condizionato sapete tutti dall'effetto dell'alluvione di maggio e quindi abbiamo come sapete introitato da parte del governo dalla procedura commissariale i soldi che riguardavano il praticamente la la sommurgenza sapete che in merita quei soldi lì noi nel mese di luglio 2023 avevamo preso nell'assestamento di bilancio di luglio nella delibera c'era scritto che il comune di Casola si impegnava qualora dalla procedura commissariale non fossero state riconosciute queste spese della della sommurgenza era un debito che comunque il comune di Casola avrebbe avuto con l'unione dei comuni perché l'unione dei comuni sulla parte corrente aveva fatto per conto di tutti i comuni le richieste al commissario per quanto riguarda il discorso della sommurgenza in questo caso noi avevamo introitato queste somme nella sommurgenza 2.211 più successivamente 250 quindi circa 2.500 sulla sommurgenza che sostanzialmente sono stati spesi tutti alcune ditte devono ancora fare delle fatture per cui li vedete qui nel riscosso nell'accertato eccetera dei valori leggermente diversi rispetto a tutto quello che era la previsione diciamo di questo capitolo teniamo conto che con i primi di gennaio del 2024 questi soldi debito fuori bilancio a questo punto non c'è più anzi dopodiché sono partiti i finanziamenti per la messa in sicurezza che li vedete sotto nella tabella sotto che era quel milione 896 mila euro e devo dire in merito a questo nell'ultimo incontro che abbiamo fatto durante la visita con il generale Figliuolo c'è stato consigliato di spendere questi soldi non per la messa in sicurezza ma per la progettazione perché con la 13 bis che dovrebbe arrivare a livello di una settimana 10 giorni comunque nelle prossime massimo due settimane almeno sentendo il colonnello Collina che è venuto la settimana scorsa che abbiamo fatto ancora alcune visite ad alcuni movimenti franosi insieme al geologo Berti dell'Università di Bologna per valutare appunto i tipi di intervento da da porre in cantiere su quelle su quelle frane un po' particolari perché dice quando arriveranno i soldi della 13 bis che sono abbiamo chiesto diversi milioni di euro vediamo adesso la procedura di questi milioni di euro che abbiamo chiesto quanti ce ne metterà in realtà a disposizione poi saremo in grado di essere già avanti nella progettazione e quindi di poter fare tutta la parte più diretta dei lavori questi soldi che comunque ci verranno assegnati nelle prossime settimane saranno soldi che vanno spesi entro giugno 2026 perché vanno spesati nel PNRR per cui essendo spesati nel PNRR non possono neanche essere cifre eccessive perché facciamo ad esempio Modigliana che aveva avuto 108 milioni di euro verrà rimodulata a ribasso c'era anche l'ingegnere di Modigliana qui l'altro pomeriggio verrà rimodulata a ribasso perché Modigliana non gliela fa spendere quei soldi entro il 2026 invece noi che avevamo seguito esattamente la procedura diciamo commissariale delle tre fasi quella della sommurgenza quella della messa in sicurezza e quella della ricostruzione adesso hanno pensato di fare una fase intermedia avendo i fondi del PNRR che significa che c'è la fase 2 la fase 3 che in alcuni casi dove ci sono degli interventi urgenti si vanno a compenetrare e sostanzialmente avremo questi due anni due anni e mezzo per poter spendere queste risorse e giustificarli sul PNRR a questo punto quindi poi per quanto riguarda l'alluvione è quello che è venuto quindi nella fase di quel milione 860 sono soldi che noi stiamo incaricando adesso delle ditte che sostanzialmente cominciano le progettazioni cominciano le verifiche tecniche faranno le progettazioni che ci vorranno quei 3-4 mesi anche forse qualcosa di più per alcuni aspetti tipo Saruffillo che è molto devastato dove vi voglio aggiungere un elemento che magari non è proprio una cosa che riguarda il bilancio ma che è un'informazione che secondo me comunque va data abbiamo chiarito un aspetto fra l'altro siamo stati promotori su questa roba qui col generale Figliolo di dire là dove ci sono delle strade delle opere pubbliche e i terreni che minacciano le opere pubbliche quindi che sono le immediate vicinanze delle opere pubbliche e che dovrebbero essere messe a posto dai proprietari se noi aspettiamo questi due eventi è inutile che noi mettiamo a posto le strade se non abbiamo messo a posto i terreni sopra e sotto anche perché se servono delle opere tipo i drenaggi non possiamo pensare di lavorare in maniera separata e poi sperando che le cose vadano a finire tutte nella stessa situazione bisogna che quel versante venga preso in un unico cantiere e che il risultato finale sia un risultato finale che sposa le situazioni dei privati con quella del pubblico allora nella prossima ordinanza ci sarà proprio scritto questo che i terreni versanti che gravatano sulle opere pubbliche dovranno essere presi in mano dal pubblico e sostanzialmente verranno presi i terreni verranno messi in sicurezza e consegnati al privato poi c'è un'altra azione sempre per il vostro conoscenza che sta venendo avanti sempre dalla struttura commissariale ma anche questa mi sembra abbastanza interessante però il consorzio ci sta ancora riflettendo e devono ancora rincontrarci con la struttura commissariale è che dove ci sono state delle frane e mi diceva Minardi che sono circa 2000 frane 1500 e tante più ce ne sono delle minori però Minardi è il geologo del consorzio che ho sentito questa mattina per altre cose e cosa succede che se una frana ha toccato 3-4 proprietà diventa difficile da parte di un solo proprietario andare a intervenire allora come la struttura commissariale lo chiedeva anche a me quando è venuta a Suma però secondo me lo sapevano anche che noi tutti paghiamo gli oneri al consorzio sia i cittadini che hanno un appartamento ma anche quelli che sono in campagna ancora pagano che queste opere vengano apprese a carico del consorzio quindi rimangono dei proprietari solo le opere che hanno inciso solo su quel fondo agricolo quindi se c'è un versante dove ci sono 3-4 frane che hanno mescolato il terreno tra varie proprietà e ce ne sono in questo caso il progetto dovrebbe fare il consorzio la messa in sicurezza dovrebbe fare il consorzio e via discorrendo poi abbiamo sostenuto col commissario anche alcune cose che erano subentrate in queste settimane che chi fa delle opere che sono funzionali al 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 di Sesto che sono state anche sono state delle opere rovinate dal di Sesto ma erano opere private e quindi sono comunque rientrano comunque in quelle diciamo sistemazioni del territorio che vanno fatte facciamo ad esempio se c'è un privato che ha bisogno di fare un dranaggio adesso seguendo la procedura normale doveva chiedere un permesso di costruire non so se voi vi rendete conto cosa significa chiedere un permesso di costruire io l'ho detto col generale significa farlo il vincolo idrogeologico ambientale andare alla sovrintendenza Ravenna che più ne ha ne metta non si finisce mai più quindi io che devo fare un dranaggio in un terreno perché voglio che il terreno non si vuole a valle ci vogliono 3-4 mesi di permessi e poi dopo devo fare i lavori allora nella prossima ordinanza ci sarà scritto anche che chi fa opere di questa tipologia basta che faccia una CIA quindi praticamente un permesso semplificato e e potrà comunque eseguire il lavoro quindi questo è una te lo chiedo intanto che ci siamo vale anche per i territori del parco no perché ricordo noi abbiamo anche quel vincolo lì che è sovracomunale e quindi sarebbe gioco che passasse anche quello perché quello è più stringente come la sovrintendenza quindi dice qua allora l'ho posto subito a Brisighella al generale questo tipo di problema e lui ha detto sì era un'osservazione giusta per cui l'avrebbe messo nella prossima devo vedere nero su bianco però dopo questo che vi ho quindi anche raguagliato un po' in merito a queste tematiche e passiamo anche al discorso che per fortuna il comune di caso l'ho avuta anche un bel numero di donazioni e su questo dobbiamo essere grati a chi ha diciamo allargito sul conto sull'Ibam del comune di caso la Valcegno delle somme che sono state le vedete anche qui in parte segnate nella relazione del bilancio costruttivo entrate da donazioni da enti e associazioni entrate da donazioni imprese entrate da donazioni da privati sono questi 64 mila euro poi sono andati e messi in spesa per quel bando che abbiamo fatto a favore delle imprese che aveva coordinato la Camera di Commercio di Ravenna dove i comuni arrivavano con un piccolo contributo che noi abbiamo preso dei soldi delle donazioni e opere di messa in sicurezza dei fossi 7.650 che sono solo una parte poi quindi qui sulla parte corrente perché noi sapete che il nostro bilancio è diviso in una parte corrente e in una parte di investimento e sulla parte del conto capitale degli investimenti sempre sulle donazioni 90.884 quindi c'è fatta la somma di questi 90.000 più 64 fa 150 e rotti mila euro e sono i soldi delle donazioni che sono arrivati il lavoro di manutenzione straordinaria strada sono 89.972 virgola 30 per cui per quanto riguarda il 2023 abbiamo rimasto dalle donazioni questi scusate 912.42 sulla parte capitale e 53 940.18 sulla parte corrente e dopo vedremo che li andiamo a impegnare comunque alla variazione di bilancio di questa sera questa è un po' come ma qui andrei anche velocemente se siete d'accordo l'ho messa come slide solo per farvi vedere le variazioni che ci sono state tra il 2021 e il 2022 e il 2023 per quanto riguarda le entrate qui si vede le entrate da Imo le entrate dall'Atari dall'Irp eccetera vedete che sono più o meno allineate anno per anno ci può essere qualche variazione di qualche migliaio di euro ma sostanzialmente non è che cambi molto l'aspetto delle entrate anche per quanto riguarda il capitolo del titolo 2 che sono le entrate da trasferimenti correnti e abbiamo visto qui ci sono le entrate dallo Stato dalla Regione dai vari organismi ma tutto questo è comunque parte della delibera e poi c'è tutta la parte che riguardano i servizi e in questo caso ci sono anche i servizi a domanda individuale come le mense come il prescuola come le altre attività dei servizi individuali gli interessi poi ci sono gli utili dalle aziende che è anche il Konami tanto per dire altre entrate quindi queste sono la parte entrate extra tributarie poi ci sono la divisione per missione cioè per tipologia di intervento e questa è la parte di equilibrio finanziario di competenza dove alla fine viene un risultato d'avanzo di competenza di 355 820 virgola 92 poi qui abbiamo l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione 2022 sapete che durante l'anno abbiamo approvato delle delibere nelle quali l'avanzo di 78 167 virgola 79 che era l'avanzo del 2022 tolto i fondi vincolati dei fondi destinati ad investimento quello fu l'avanzo che noi avevamo nel consultivato anno scorso più o meno da questi giorni e che abbiamo speso nel corso del 2023 con tutte le delibere che vedete qui e alla fine quindi l'avanzo d'amministrazione 2023 sostanzialmente c'è rimasto pochissima roba 102 virgola 02 di avanzo libero che chiaramente vanno nella somma dell'avanzo d'amministrazione del 2023 e queste sono le delibere che abbiamo fatto durante l'anno e questi sono gli equilibri del bilancio secondo dei titoli che sono i numeri che abbiamo visto sostanzialmente prima e questi sono gli impegni per macro aggregati che portano sempre alle cifre di prima dove l'avanzo di parte corrente 299 494 95 poi arriviamo alla parte più interessante allora per quanto riguarda l'indibitamento vi ricordate che anno scorso avevamo preso 60 mila euro per le scuole elementari che partiranno i lavori veramente consistenti appena finito quest'anno scolastico qui verrà fatto metà edificio quest'anno e metà edificio il prossimo anno per non interrompere le attività didattiche quindi per fare in modo che stiamo concordando con l'azienda con i responsabili della sicurezza delle scuole e dell'azienda un piano di lavori che ci possa permettere di fare i lavori più impegnativi e all'interno dei locali nel periodo estivo in modo da poter riaprire le scuole a settembre senza lo spostamento dei ragazzi quindi rimarrà dall'inizio di settembre poi alcuni lavori esterni da fare e poi si porterà l'impalcatura nell'altro lato destro della scuola e nell'anno successivo si faranno i lavori anche all'interno dell'altra mezzala che quest'anno non verrà toccata quindi i 60.000 più i 51 612 sono i rimborsi che abbiamo fatto dei mutui in essere era stato sospeso il mutuo della cassa dei pochi e presti CDP e questo abbiamo avuto un risparmio di 11.402,06 nell'annualità di anno scorso perché chiaramente poi questa annualità verrà aggiunta in coda rispetto agli anni che avevamo di ammortamento di quel mutuo quindi non è che si hanno abbonato gli interessi cioè vengono sospesi per quell'anno poi vengono poi recuperati in coda agli esercizi agli esercizi per quanto riguarda quindi alla fine quello che è il risultato importante d'amministrazione è questo che il risultato d'amministrazione del 2023 porta un'avanza di 685 614,71 superiore a quello del 2022 dove c'è ponti credi dubbi esegibilità che dobbiamo sempre cantonare 228 200 ponti condenzioso 10.000 altri accontanamenti 104 518 su questi voglio spendere un attimo una parola perché noi avremmo avuto in realtà diciamo così come disponibilità di avanza di amministrazione 194 però abbiamo due problemi uno è Galeazzi è un problema che abbiamo discutito a tutti i livelli regionale e provinciale siamo andati a parlare col prefetto insieme a Galeazzi però Galeazzi non sapisce che alla fine però i soldi li mette lui anche se il lavoro lo dovrà fare il comune perché lui è un pozo in questo senso qui è già stato denunciato dalla magistratura c'è un iter nazionale che prevede che di fronte ad un'ordinanza di messa in sicurezza si non offentra il comune si sostituisse al privato ravvalendosi sul privato delle spese che il comune sosterrà per questo intervento noi siamo partiti dopo che abbiamo fatto l'incontro in prefettura che anche il prefetto oltre che a dirglielo verbalmente gliel'ha detto anche per iscritto galeazzi mandandogli una lettera a tutti e tre i fratelli galeazzi detto se voi non ottemperate lo tempio il comune poi si rivale su di voi attraverso storie attraverso le procedure che i comuni hanno per poter recuperare queste somme qui abbiamo messo in moto un progettista per fare questo intervento che prevede se volete ve lo racconto velocemente senza entrare troppo nei particolari lo sventramento della casa il betoncino e rinforzo e alcuni muri di traverso verranno tenuti come contrafforzi per mantenere le due pareti laterali poi verranno messi praticamente degli appoggi dei puntoni ai vari livelli dei piani in modo che possa tenere insieme le due case di qua e di là verrà messa una copertura sopra con una copertura provvisoria in modo tale che arrivi l'acqua direttamente e il quanto viene demolito beh tutto questo costa quasi 300 mila euro 280 quindi per il comune è un grosso impegno per due ragioni uno perché noi le ditte le paghiamo a 30 giorni per me qui dovremmo girare fuori questi soldi due poi segretari ha scritto che si è partita con me quindi anche con l'ufficio legale dell'unione per cui conosciamo anche bene l'abbiamo discusso all'inverosimile il problema è che diceva la nostra responsabile amministrativa dell'unione è bene che il comune accantoni con i vari bilanci almeno una percentuale una quantità di soldi perché succede il fatto che io cioè Galeazzi dei beni ne ha poi quanto valgono questi beni io non ne ho un'idea perché se valgono come quelli di casa comincia ad avere qualche perplessità ma speriamo che ne abbia anche di quelli che valgono di più che qualora lui non paghi le fatture che noi gli manderemo stato d'avanzamento anche adesso dicevo segretario anche lei l'altro giorno che aveva intenzione di chiederci il 20 20 20 per cento 25 per cento siccome noi quando facciamo i lavori delle volte possiamo chiedere se il bando lo prevede un anticipo prima di cominciare i lavori allora per misurare la temperatura a Galeazzi vedere di chiedergli anche un anticipo in modo tale che vediamo subito la sua reazione di fronte a una reazione negativa che lui non paghi non è che noi possiamo dire andiamo subito a pignorare dovremmo aspettare un provvedimento del giudice che ci autorizzi a pignorare quindi se noi paghiamo facciamo i lavori fra tre mesi io pago fra quattro e le riscuoto fra cinque o sei anni la cosa diventa pesante non soltanto dal punto di vista dell'esborso che ha il comune di Casola ma di un altro aspetto che sono 300 mila euro di liquidità di cassa quindi anche la liquidità di cassa è una di quelle cose che sono sempre da equilibrare all'interno di un bilancio comunale quindi anche questo è un problema non da poco per cui 90 mila euro che li vedete qua accantonamento eccetera sono per due ragioni uno circa 40 mila euro e 50 mila euro sarebbero sui progetti del PNRR che noi abbiamo in corsa perché quando si fa la reddicontazione del PNRR non sempre tutte le voci vengano riconosciute ci può essere delle voci che vengano stralzate e se vengano stralzate dopo ci troviamo a non avere i fondi per farci per farci fronte per cui un po' tutti i comuni tendono ad accantonare un po' di soldi dell'avanzo d'amministrazione per far fronte eventualmente a queste cose che nel PNRR delle volte possono succedere il PNRR sono i lavori che sono finanziati attraverso questo strumento di finanziamento europeo quindi sostanzialmente erano 194 era bello dire li spendiamo tutti però non è saggio perché è molto più saggio dire 40.000 intanto su Galeassi cominciamo a metterli lì quest'altro anno qualche di un altro ci metterà altri 30.000 40.000 a seconda dell'entità dell'avanzo perché se l'avanzo fosse stato il 78 di anno scorso non poteva accantonare 90 rimanendo a zero la situazione dell'avanzo dell'amministrazione perché di qui a fine anno comunque qualche problematico un po' di correnti in più un po' di gasolio in più di metano o altri interventi che siano necessari fare bisogna avere un po' di margine attraverso l'avanzo d'amministrazione che serve sempre per quelle partite dare e avere che durante l'anno si squilibrano perché uno ha sottostimato le entrate e uno ha sovrastimato le entrate insomma vanno visti caso per caso quindi volevo dire alla fine sostanzialmente noi come avanzo parte disponibile che sono gli equivalenti dei 68.000 di anno scorso fatti salvi 90.000 che vi ho detto sono lì non è che magari alla fine dell'anno rimangano quelli di Galeazzi con il PNRR bisogna vedere quanti progetti di PNRR chiudiamo ce ne chiudiamo molti quantità lì una parte può andare anche all'avanzo dell'anno scorso quindi sostanzialmente abbiamo pensato che fosse prudenziale per il comune fare una scelta di questo tipo quindi quelli realmente disponibili sono questi 104 786 però dicendo che l'anno 2023 è stato un anno in cui si è cercato nel limite possibile di fare delle economie e di fare in modo che la vasta amministrazione fosse comunque superiore a quello del 2022 che non è detto che succederà sempre così perché per esempio l'anno scorso una delle partite che ci ha dato più soddisfazione è stata quella dell'illuminazione pubblica su via Roma che ci ha permesso di spendere molto di meno sull'illuminazione pubblica parlo di 15-20 mila euro non è roba da costo quindi è un fatto estremamente importante per quanto riguarda ecco i servizi a domanda individuale che sono sempre un problema per le casse del comune perché effettivamente se guardiamo il prescuola i proventi sono 1.972.50 i costi sono 7.598 alla fine la copertura di questo servizio è al 26% vuol dire che la differenza paga il comune vanno presi comunque dalle casse del comune la Gironido 52-120 sono i costi meno 68 mila euro sono il 43,51 quello che noi prendiamo poi è vero che c'è stato il nido con la regione che ha permesso anche qui di fare delle economie relative per il comune ma importanti per le famiglie perché i soldi del nido della regione vengono dati alle famiglie giusto Claudio vengono dati alle famiglie i costi della rossa sì anche la mensa anche la mensa abbiamo chiamato in regione qualche giorno fa che ci hanno confermato proprio con la dirigente competente che hanno confermato che questa soluzione verrà applicata anche per l'anno 2024-2025 che è veramente tanta tanta roba io dico che è il primo vero atto concreto che è stato fatto nei confronti dei comuni montani per facilitare la vita sia le famiglie che i comuni perché la rimanenza di quei fondi quindi una volta abbattuto tutto il costo intero della retta va a coprire anche in parte il costo del servizio che ha il comune ma pochissimo pochissimo ma sempre benvenuto poi c'è qui il servizio mensa vedete comunque che complessivamente il totale è che la copertura di questi servizi sono al 68,10% e quindi che la differenza chiaramente per arrivare a 100% è a carico comunque del bilancio stimolato e questa è la parte invece che riguarda le spese di rappresentanza che sostanzialmente le spese di rappresentanza sono le corone dall'oro che vengono messe monumenti caduti in corrispondenza delle varie manifestazioni durante l'anno che sono state 504,20% e poi abbiamo avuto un centesimo compleanno che credo che fosse la suocera di Rita la favola in cui abbiamo fatto un omaggio un mato di fiori ecco perché quando c'è il centenario è stato sempre un attimo valorizzato perché è un bel obiettivo e quindi alla fine come spese di rappresentanza sono questi 504,20% quindi sostanzialmente la tabella più importante che vi trovate comunque se non andate a guardare gli allegati di cui comunque vi ho fatti vedere è questa tabella qua quella che vi trovate anche in delibera aspettate che ve la tiro fuori quella dei 685 685 con il riparto dei fondi d'accantonamento e con la parte che sarebbero 194 104 più 90 che vengano accantonati nel modo che vi dicevo prima quindi rimarranno disponibili salvo che dopo vediamo alcuni li impegniamo nella variazione di bilancio di questa sera è una piccola parte 20-25 mila euro e quindi rimarranno comunque disponibili per far fronte alle esigenze di bilancio che saranno a venire da adesso a fine anno non ci sono un anno che è un posto che abbiamo chiuso l'anno bene senza troppi problemi grazie Maurizio osservazioni volevo solo dire secondo me Maurizio Galeassi ne paga due delle fatture visto che stiamo parlando di una cifra consistente mettiamola in conto perché lui il patrimonio ce l'ha però bisogna vedere che cos'ha volevo dire una cosa Maurizio grazie della tua presentazione io ho avuto un problema col computer questa qui è dentro tutta questa presentazione è nella delibera non sono riuscito ad aprirlo no perché ho un problema io col computer va bene ci volevo chiedere una cosa allora ho visto che ci sono 103 mila euro per la piscina e 124 mila euro oppure viceversa parli sempre della somma urgenza che lavori sono questi qui che devono fare allora lo spiegavo dopo nella variazione di bilancio perché nel concetto è questo qui noi ci hanno dato 124 mila euro e 103 mila euro noi abbiamo chiesto in realtà di più nel senso che questo sarebbe il 68% dei danni che durante l'elusione ci sono fatti in questi due cittadini la piscina e il campo che stava per essere in posto e loro ci hanno dato il 68% per il momento però la struttura commissariale ci ha già comunicato che ci daranno il 100% siccome adesso lo dico adesso non lo dico dopo comunque non cambia mica niente le cose che ci capiamo 124 mila euro del della piscina non erano sufficienti perché fatto lo studio intanto abbiamo dovuto guardare quello che era la situazione della piscina dal punto di vista della stabilità del terreno attorno alla piscina ci sono mossi un po' i tubi di fondo della piscina e ci sono alcuni problemi nella circolazione dell'acqua per cui dobbiamo fare due lavori nella piscina il primo lavoro è quello di ripristinare questi tubi che sono del 1975 1966 quando è stata fatta la piscina e siccome quella piscina fu progettata con una buca molto profonda perché allora c'era anche l'attore del trampolino quel trampolino nelle piscine è sparito per legge sostanzialmente e quindi cosa succede che questi tubi sono molto profondi per andare a levare e quindi sarebbe un lavoro in mano perché devi andare giù 4 metri e mezzo e andare con le lezioni allora c'è venuta un'idea siccome già i gestori della piscina era un po' di tempo che ti segnalavano che tutte le piscine qui in giro sono fondi 125 ma 150 centimetri costanti e tutte le piscine che fanno adesso li fanno tutti allora c'è venuta questa idea di portare qui sui tubi sia di mandato che di ritorno e quindi fare degli scavi attorno ai 2 metri 2 metri e 20 per scavi abbastanza rifare gli impianti andare alle pompe questo riguarda sia la piscina grande e che in parte anche la massa di confenso tra le due piscine che è circa metà delle due piscine e quella dei ragazzini quella dei bambini quella dei bambini portare più in alto la buca non è neanche più pericolosa tra virgolette quando c'è una buca di quel tipo lì hai bisogno di tenere nell'esercizio due bagnini uno che sorvegli la buca profonda e uno che sorvegli l'altro pezzo di piscina e quindi anche i costi di gestione diventano paraoni e sostanzialmente lì con la tecnica che usano adesso che fanno un riempimento di un materiale tipo polistirolo nella parte fonda e poi gli mettono il pelo quindi lasciano le piastrelle dove ci sono però si mettono sopra il pelo tutto oggi sulla gran parte delle piscine e quello era fatto anche nella piscina qui scusa Maurizio ma questo qui non è un danno causato dall'alluvione no sotto i tubi sono stati con l'alluvione si ma allora se non sbaglio tu devi ripristinare spendere i soldi per ripristinare mettiamo anche noi no ma questi qui sono 124 mila euro che derivano per la sommorgenza e quello va bene e quello va bene la sommorgenza abbiamo fatto le immagini geologiche aspetta tu devi ripristinare la situazione come era prima non puoi fare delle modifiche no io faccio delle modifiche perché quella situazione non si può fare io la ripristino no è lì il problema no io ripristino il funzionamento comunque a me mi risulta così io ripristino il funzionamento della piscina ma come era prima ma tu la devi fare come era prima a me me lo dicono i tecnici che va bene poi io la ti può dire la commissione non penso che ragioni così però comunque noi ci mettiamo in questa partita che dobbiamo mettere ben quasi 50.000 euro noi come comune che è quello che riguarda l'altamento della piscina quello che è da noi la sua morgezza vengono spesi e giustificati su un certo lavoro e su un altro lavoro andranno giustificati quelli che ci mettiamo a noi dalla vasta amministrazione non è mica vero ma allora io nelle frane cosa faccio le frane come erano prima le faccio come possono essere no ma anche i danni ma io non ho mica detto che le devo ripristinare come erano prima io ripristino il funzionamento della piscina che deve funzionare come deve funzionare comunque io credo che noi abbiamo no no ma questo lo sanno bene gli uffici che devono fare non c'è un predubio quindi devono fare la ridicolazione dopo gliele tagliano quindi non c'è mica un predubio quindi adesso noi ci devono presentare in questi giorni il progetto perché è stato un progetto abbastanza complesso da mettere a posto poi contiamo che la vita ci ha detto che in un paio di mesi si conclude questi lavori qui che abbiamo detto e quindi apriremo all'inizio di luglio speriamo perché qui bisogna vedere cosa fa il tempo perché dire che apri o che fai è sempre una scommessa e quindi purtroppo quando fai i lavori esterni è così però andiamo verso una stagione che dovremmo essere in condizione di poter lavorare quindi avremo quindi avremo un paio di mesi in cui potremmo avere la piscina in un paio di mesi che è un paio di mesi perché noi ce ne avevamo dati 227 per tutti e due i lavori ma non erano divisi tanto per uno tanto per l'altro per cui siccome avevamo un'esigenza un po' di più sulla piscina abbiamo portato un po' di più sulla piscina abbiamo tolto qualcosa del campo sportivo che magari adesso non ci servono e che quando ci darà l'integrazione il commissario prenderemo sul campo sportivo nel campo sportivo dobbiamo fare un collettore giù in fondo su via Macello che raccolga diversamente l'acqua perché deve raccogliere anche tutta l'acqua del cattino che c'è su che è la divisa fra due tubi che sono i due tubi di era quello del 1000 quello dell'800 del 600 sono due tubi diversi lì e poi dobbiamo fare un miglioramento tra la strada provinciale che viene giù se l'acqua che viene giù lungo la strada provinciale quando arriva la curva sopra posta la curva lì fa fatica cioè magari tra rifa verso il campo sportivo quindi lì dobbiamo fare una cosa che abbiamo visto insieme alla provincia per resimare diversamente l'acqua che viene sulla provinciale che non vada troppo adosso al campo sportivo che abbiamo visto durante l'allusione quando arriva giù molta acqua dalla strada di prugno quando è in quella curva lì invece di girare verso il posto giù tra rifa verso il rivale che c'è sul campo sportivo lì abbiamo bisogno di abbiamo guardato insieme l'ingegnere nobile della provincia lì vorremmo fare anche quel miglioramento lì che per me è molto importante mettiamo i voti favorevoli astenuti contrari 3 astenuti facciamo subito immediata eseguibilità favorevoli astenuti contrari 3 astenuti punto 5 variazione al documento unico di programmazione e al bilancio di prevenzione previsione 2024-2026 annualità 2024-205 e 2006 applicazione avanzo di amministrazione relatore vice sindaco morizio nati prego passiamo allora la delibera sostanzialmente riparte dalla condizione che del risultato dell'amministrazione del 2023 dove c'è la parte disponibile di quei 104 sui 156 virgola 651 poi abbiamo nelle maggiori entrate abbiamo 7691 mila euro avanzo accantonato per fine mandato degli amministratori e qui è il sindaco che deve avere un aiutami e un'idenità di fine mandato che è stato calcolato sugli anni dal 2019 al 2024 e che è 7691 avanti 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 trasferimenti che sono quelli che riguardano gli asili nido 2023 che sono 6668 2,04 e li vediamo in maggiori entrate che dopo non li vediamo anche nelle maggiori spese che vi dirò tra un attimo donazione alluvione 2023 incassate nel 2024 3.184 quindi con maggiori entrate contributo ministero affari esteri progetto che ha fatto Clavio sul progetto turismo delle radici sono stati emessi finanziamenti per 5.500 euro hanno una gestione piscina adeguamento ist sono maggiori entrate per 4.610 rimborso assicurativo credo che sia quella rete la giuda la zona industriale che è andata giù un'altra volta che si è preso con un camion di 1.216 euro e maggiori entrate dalla situazione di camionista poi abbiamo come minori entrate abbiamo il contributo statale per il progetto il paese dell'erba che è dato buco che era 150.000 euro che li vediamo in maggiori entrate e poi lo vedremo anche in minore spese perché questo progetto non si farà fitti attivi abbiamo minori entrate 5.665 perché cos'è successo la ditta cappero chiaramente visto che la via lì è chiusa da aprile 2023 ha detto noi abbiamo avuto un forte calo di presenze anche di gente magari che arrivava lì sulla macchina che prendeva la pista la portava via quindi abbiamo abbattuto quel canone per i mesi che è stato chiuso lì da via questi 5.665 sono praticamente un anno e mezzo un anno e qualche mese prendiamo conto che questi però fanno nel conto delle altre non è che noi glieli chiederemo e quindi come il suolo pubblico noi abbiamo dovuto chiudere lì la strada ma il suolo pubblico deve pagare le altre poi dopo vedremo noi glieli chiediamo gli ignoriamo anche per le cifre lì perché non è solo i lavori di sistemazione della corsa poi abbiamo maggiori spese identità contributi perfino mandato del sindaco sono 7.691 ristrutturazione restituzione contributo asili che sono 7.668 che abbiamo visto prima trasferimenti all'URS per lavori pubblici qui abbiamo preso dalle donazioni 32.351 più altri delle donazioni 2024 a 3.180 che gli diamo i lavori pubblici per manutenzione che continuiamo a fare sulle strade perché non abbiamo ancora adesso i fondi della ricostruzione e ogni tanto subentra l'altro giorno siamo dovuti andare lì dal casolare di Emanuela con un ragno per liberare una prana che si è riattivata per cui questi lavori qui li dobbiamo pagare perché non è che possiamo pagare quindi queste cifre qui servono per mettere un attimo in sicurezza quelle frane per continuare a pulire i posti e continuare a pulire magari gli attraversamenti dei posti quindi trasferimenti all'URS per i lavori pubblici che sono altre strade strade che vuol dire sia caditoi che diciamo ripristino delle sedi stradali 4.866,76 poi turismo delle radici da una parte li abbiamo in ingresso e da una parte li abbiamo in uscita perché faremo il progetto che costerà 5.500 euro poi abbiamo un'altra cosa abbiamo nel corso del 2023 dopo che ci sono state le frane e che le strade erano percorribili dai residenti in mezzo di supporto il trasporto diciamo dei ragazzi è svolto sulle vie principali e non sulle vie secondarie per cui abbiamo pensato che per l'anno prossimo di utilizzare il servizio di trasporto pubblico che praticamente percorre l'asse principale da Riole fino a Palacuolo e abbiamo visto che gli orari dei pullman combinano con quelli delle scuole solo che per i ragazzi delle scuole elementari si vuole l'accompagnatore a bordo del mezzo allora qui detto in soldoni poi ce la sta a spiegare meglio Flavio perché lui l'ha seguito più di me noi spendevamo 46 mila euro mi pare sul trasporto scolastico con la cooperativa trasporti di Riolo trasporti che finiscono con questo anno scolastico di giugno 2024 il contratto si chiude con questo anno non vi abbia uno di Grazie. 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 Allora poi vedrete c'è una variazione di 4.000 euro in più sulla convenzione di Santa Dorotea fondamentalmente questi 4.000 euro in più riportano a 11.000 euro il contributo per lo spazio bimbi che prevedeva la vecchia convenzione. Facciamo un passo indietro a gennaio 2023 è scaduta la convenzione con la scuola paritaria Santa Dorotea una convenzione che prevede che prevedeva negli ultimi anni due tipi di contributi da parte del comune a Santa Dorotea un contributo di 11.000 euro per la gestione dello spazio bimbi quindi il loro asilo nido che asilo nido non è ma è lo spazio bimbi e 11.000 euro per la gestione della scuola paritaria quindi la scuola per l'infanzia e la scuola materna. E' scaduta gennaio 2023 c'è stata la necessità chiaramente di rinnovarla però che cosa è successo pochi mesi prima di fare il bilancio a tutti gli effetti da inizio anno? Che il don si era preso un attimo di tempo per valutare se a giugno o meglio se a settembre del 2024 avrebbe o no continuato a offrire il servizio di spazio bimbi. Perché aveva pochi bambini e ci era preso il tempo un attimo per valutare. A fronte di questa sua insicurezza nel poter continuare a offrire il servizio da settembre noi gli abbiamo momentaneamente rirrapportato il contributo relativo allo spazio bimbi. Che praticamente da 11.000 noi a bilancio per l'anno 2024-2025 abbiamo messo quindi 11.000 meno 4 abbiamo messo 7.000. Lui ha, abbiamo fatto una serie di valutazioni in questi mesi al dono, valutazioni che andranno avanti eccetera, ha valutato che per l'anno 2024-2025 continuerà a offrire il servizio di spazio bimbi e quindi questo contributo, cioè l'impegno di spesa per questo contributo è stato ripristinato fondamentalmente a 11.000 euro. Questo è quanto? Sono stato abbastanza chiaro, mi sono un po'. Scusa, volevo dire una cosa ancora al discorso di prima dei trasporti, se non ho capito male. Adesso noi spendiamo 47.000 euro e tu hai detto che risparmeremmo con il nuovo sistema 30.000 euro. Allora, il Presidente costerebbe 8.000 euro l'anno, costerebbero 8.000 euro l'anno circa gli operatori, due operatori. E in più ci sarebbe da spendere qualche cosa su questo servizio di prescuola ampliato. Quindi se hai una spesa di 12.000 euro l'anno, complessiva. Grazie a tutti. Che ripeto come ho detto tutte le volte, non sono soldi che si prende all'assessore, ma sono soldi che si prende il datore di lavoro per le ore di assenza dell'assessore. 10 ma dei mesi che ne ho fatte anche non retribuite per capirci, perché oltre le 24 non sono retribuite. Grazie. 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 Grazie, Maurizio, di nuovo. Allora, un altro... due cose. Una, ritornando al discorso lì del capparo... Non del capparo... della pizzeria. Ho visto che c'è stata un'ordinanza della Giunta dove c'era una variazione di destinazione d'uso in via Matteotti. C'entra qualche cosa lì? È libera della Giunta. La variazione di destinazione d'uso, io ho letto. Io ho letto così, non l'ho aperta perché ho sempre dei problemi nel computer, però l'attesto. Comunicazione della Giunta. Contratto per uso diverso dei locali delle abitazioni in via Matteotti, 57, 59 e 63. Contratto per locali ad uso diverso dell'abitazione in via Abitazione. E' questa qui la delibera. Numero 21. Qui sembrerebbe proprio un'altra cosa. Cazzo l'avete fatta voi. Allora dice, contratto, rep, per locali ad uso diverso dell'abitazione in via Matteotti, numero 57, 59 e 63. Caso la varsegna, provvedimenti. Sono locali ad uso diverso dell'abitazione. E' l'inquadramento dell'ocale. E' la recettura del quadramento dell'ocale. E' un servizio commerciale. E' un servizio commerciale. E' un servizio diverso dall'abitazione. Ma anche prima era sempre stato così, però. E' sempre stato così, però. Appunto. Eh, è il titolo un po' farorriante. No, no, ma io lo metto in dubbio, però. Ce l'ho chiesto. Siccome qua io non riesco a... Vedo solo le cose, poi non riesco a aprirle? O se lo... No, nel computer c'è un problema che con Casper Kai, lì non riesco ad entrare dentro nessun sito del... Eh? No, no, a me mi dice il sito non protetto non mi fa andare avanti. E' dopo lo faccio con il telefono. Ah, beh. Allora, ah, beh, col telefono. Non ho fatto la foto del telefono. No, 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 ma lo so allora. Col telefono sì, però... Poi un'altra cosa. Chiarito questo va bene. Sono curioso. 20.000 euro per le modifiche del gamo sportivo. Negli spogliatoi. No, anche per il campo. Perché il campo, facendo due metri e mezzo in più, per tutta la lunghezza dei cento metri, c'è un lato del materiale in più e ci va anche delle erbe in più di quella da fondo del campo. E negli spogliatoi, il memorista Giordani, che informa che... E allora... Si può sapere giusto più o meno, così, per curiosità. verso l'esterno, perché la sede dell'associazione sportiva aveva l'apertura verso gli spogliatoi dei giocatori. Dice, no, quella bisogna che sia separata, che abbia un suo accesso indipendentemente dagli spogliatoi. Poi ci ha fatto cambiare un'altra cosa, che abbiamo fatto un bagno comune tra il secondo spogliatoio dell'arbitro, perché ce ne sono due di spogliatoi dell'arbitro, perché siccome adesso per normativa CONI deve avere lo spogliatoio per le uomini e per la donna, perché potrebbe arrivare un segnalino ai donne e due arbitri uomini e via di correndo. Allora, siccome lì c'è anche locale infermeria, locale infermeria, piuttosto che fare un altro bagno, abbiamo aperto due porte e ci abbiamo messo un sistema che quando uno è dentro impedisce a chiunque di entrare dalle due porte e viceversa. Poi cosa c'era ancora? Abbiamo fatto due o tre... Ah, una finestra nel... Aiutami... Nel spogliatoio dell'arbitro, che non c'era, l'abbiamo aggiunto perché abbiamo visto che era più funzionale, sono messo l'era dimenticata l'articletta nella penna, questo è il mio punto di vista. Poi cosa c'era? Sono modifiche all'interno della geometria del... Mettiamo i voti? Ah, comunque l'ultima cosa, secondo l'ultimo programma che abbiamo visto il 17 di aprile, con le ditte dei direttori dei lavori, tempo permettendo, ma non ci aiuta molto perché stamattina sono arrivati due camion di sabbia del Polo e hanno dovuto scaricare da un'altra lì vicino perché non potevano andare dentro il campo perché doveva a dirotto, questa settimana dovevano fare, mettere la sabbia del Polo, che è una sabbia dranante, mescolarla con la terra e eliminare il campo. Dopo che il podo, mi chiamano Ganni Neri, l'atto di più, per il più. Stanno facendo il piazzale, stanno mettendolo stabilizzato sui parteggi, potete l'avete visto, stanno spendendo sui parteggi. secondo me, cioè secondo il direttore dei lavori, secondo me, entro un maggio sarà finito. Eh? Lo sento proprio di qui. Eh? Ah, ma non c'è mica rimasto tanto. I predatori sono finiti, stanno montando i cemiteri. No, ma c'è ancora un mese. Tutto il mese di maggio. Questo è quello che mi hanno detto. Io da volte vi dico, cari, qui dopo ci prenderanno, non ci prenderanno. Se adesso piove dieci giorni, secondo me vanno avanti ancora, perché devo fare dei lavori di movimento di materiale. Quindi, ti dico, è stata una gara durissima quella che ha avuto qui. Molti lo sanno, io ci vado quasi tutti i giorni là, perché, insomma, quando prendi alcune di queste ditte qui, ti fanno sputtare sangue. E d'altra parte, quando vincono loro la gara, non puoi dire non l'hanno vinta. Mettiamo i voti. Favorevole? Astenuti? Contrari? Facciamo l'immediata... Ah no, devo dire... Immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti e Contrari. Punto 6. Tassa sui rifiuti, Tari, approvazione dell'articolazione tariffaria anno 2024. Dobbiamo mettere qualche sessore in più. Relatore, vicisindaco Maurizio Nati. Prego. Allora, quando abbiamo approvato il bilancio 2024, noi non avevamo ancora il PEF della Tari, perché ce l'hanno trasmessa appena 7-8 giorni fa. Il PEF della Tari, comunque sapete che questa è una partita praticamente di giro, imposta dal Ministero, cioè nel senso che quello che viene sostanzialmente costo al servizio viene ripartito sulle partite. Ater Sir. Adesso aspettate che provo a dire anche che sarà da qua. Troppo che va da qui. L'ho fatto fare anche una simulazione, così vediamo meglio le cose. A Carlo l'ho dato anche nel cartace. Allora, il PEF che è arrivato quest'anno è un PEF che riporta la cifra di 551,107,16 ed è aumentato 9,60, che è una cifra importante, rispetto a quello di anno scorso. Poi noi abbiamo, aspettate che apri la delibera, così andiamo anche meglio. Questa è la delibera comunque. Ecco qua. 551,107,00. Poi abbiamo il contributo del MIUR per le scuole statali che ci dà un contributo di 1270,84 che va ad entrarsi rispetto a quel valore. Poi, da attività di recupero, vuol dire che utenti che non hanno pagato non hanno pagato quello che dovevano, insomma, eccetera, sono 5.000 euro che vanno a fronte di segno o meno. Poi, noi abbiamo definito come amministrazione una scontistica per le utenze domestiche e le utenze non domestiche che rimane uguale, l'abbiamo lasciato uguale anche per l'anno in corso. E questa scontistica incide per 23.570 sulle utenze domestiche e sulle non domestiche per 11.338. Quindi il totale del PEF torta le partite negative messe quelle positive sono 579,744,16 e la percentuale, voi sapete che era quella anche nel bilancio di previsione, il 691% sulle utenze domestiche e il 39,09% sulle non domestiche. questo qui questo qui i 579,744,16 sono quelli che andranno in fattura agli utenti. Allora, per essere più chiari io ho fatto fare una simulazione a Carlo glielo ho dato anche in cartaceo per capire che cosa succedeva in realtà. allora voi sapete che la tariffa si divide in due parti una parte fissa e una parte variabile in più è in funzione per quanto riguarda le abituzioni scusate è in funzione dei metri quadri che uno ha e del numero di abitanti che c'è in quell'unità immobiliare quindi più abitanti ci sono a parità di metri quadri più cala la tariffa l'aumento della tariffa se chiaramente voi avete un appartamento grande c'è una persona questa persona cede molto e quindi la differenza è dell'8,57% se uno ha un appartamento di 100 metri quadri e ha praticamente una persona che abita quell'appartamento se i 100 metri quadri sono diciamo due persone l'incremento è del 6,08% se sono tre persone il 5,56% se sono quattro persone il 5,16% cinque persone sempre riferite ai 100 metri quadri 4,30% sopra sei persone da sei persone sopra il 3,88% è chiaro che questa è una simulazione prendendo questi riferimenti se cambiate i 100 diventano 80 e se cambiate il numero di persone viene a cambiare anche tutta questa divisione che ho fatto qui per quanto riguarda il discorso delle industrie e le attività industriali a seconda della tipologia case di riposo alberghi alberghi poi stabilimenti uffici agenzie e queste robe qui è stata fatta anche qui una simulazione tra il 2023 e il 2024 vedete che per le aziende l'aumento è abbastanza costante anche in funzione della tipologia è il 7,87 e c'è qualche punto che va sul 7,8 ma comunque insomma è il 7,87 di media quindi il concetto è che questa è un po' la divisione tra il il domestico con queste percentuali medie di aumento e l'attività industriale col 7,87 alla fine la media quindi era del 9,60 fatte quelle detrazioni che dicevo prima di quei 5.000 più i 1.200 eccetera eccetera verrà circa un 8,17% mi hanno detto 8,87% la media che non è piccolo lì è stato un po' anche stranamato sulla provincia ma i comuni montani il servizio costa abbastanza io quello l'unica osservazione che ho fatto io ma non vado io a questi incontri credo che ci vada flambo l'unica Grazie. La differenziata non ha un riconoscimento maggiore di più per questa operazione che si rende disponibile a fare. Questa considerazione va fatta ed è giusta, anche perché noi siamo passati da una indifferenziata praticamente quasi totale, che quindi aveva dei costi poi per lo smaltimento successivo del rifiuto che veniva raccolto, a una raccolta differenziata che comunque comporta dei ricavi. Perché c'è il Corepla che raccoglie la plastica, c'è quell'altro che raccoglie la carta, siamo i primi in Europa con la raccolta della carta e allora se ci sono dei guadagni da parte di chi fa la raccolta, perché effettivamente ci sono, devono essere anche distribuiti sulle tariffe dei cittadini. Noi siamo passati da un solo autocarro con un operatore autista che faceva il giro a raccogliere tutto, a addirittura quattro autocarri con due persone se non tre a volte e questi costi li stiamo pagando noi sulla bolletta e non è corretto. Se funziona così, come dici tu, allora uno è disincentivato a fare una buona raccolta differenziata. Io ti dico, appena ho ricevuto questo, ho detto benissimo l'aumento, cioè se è questo l'aumento e Atersir ha validato col contratto sottomani questi costi, che vanno validati da Atersir, che è l'interregionale di controllo su queste robe qui, però voglio sapere, ma al cittadino gli viandi più se va all'isola ecologica, quella roba? No, è rimasto sempre 15 centesimi, a quant'è una cifra di questo tipo qui? Quindi ho detto, allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto solo l'aumento senza aver riconosciuto niente al cittadino, così non va bene. No, e poi sono 15 centesimi con un massimale, cioè oltre quello non è che puoi andare, anche se ci vai tutti i giorni. Scusa eh, posso parlare? Allora, dati 2021 426 mila euro, dati 2024 stima 580 mila euro, in quattro anni sono cresciuti 160 mila euro. No, che fai così? La popolazione cala, sta calando casola, e abbiamo la tari che aumenta. Allora, costo del servizio. Allora, mi devono far vedere come, allora abbiamo un incremento del dati IST del 2% all'anno, e qui ha un aumentato del 9%. Cioè, noi, veramente, qui stiamo impastendo per me. Cioè, perché uno che ti presenta una variazione di ogni anno, 50 mila euro all'anno, e stavolta me ne presento 80 mila, so, più di 80 mila in un anno, cioè, e poi diciamo che facciamo la raccolta indifferenziata, come diceva Fulvio. Cioè, per me non ci siamo. Cioè, io non vado ai cittadini a dire che ho approvato una variazione del 9% della tari. Quando c'è sempre stato detto che se facciamo la raccolta indifferenziata, tutti ci avremmo guadagnato. Qui invece, finalmente si fanno pagare di più. Dai fai così, io ti dico, io questa cosa qui, io questa cosa... No, 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 possiamo fare, possiamo fare. Possiamo fare. Perché noi non la votiamo, questa qui, e la responsabilità ve la prendete voi. Quindi possiamo fare. No, non è questione di prendersi la responsabilità o meno. Come diceva giustamente Maurizio, queste sono decisioni che prende Attersir e purtroppo tu ti devi adeguare. Torniamo un attimo su quello che hai detto prima. Allora, tu giustamente hai detto, abbiamo sempre detto che a fare la raccolta indifferenziata ci sarebbe guadagnata. Non è mai stato pro, attenzione. Cioè, non è mai stato... A livello economico non è mai stato detto questo, eh. Cioè, no, no, si è detto che ci sarebbe guadagnato in ambiente, ci sarebbe guadagnato tutto quanto. Però sul fatto che il costo del servizio sicuramente sarebbe costato di più, questo è un dato di fatto, eh. Cioè, è stato ammortizzato da altri che si terebbero più giovani, non i cittadini. Come si poteva pensare di vendere ai cittadini un servizio che complicava l'esistenza nel forese come nella città e li obbligava a complicarsi, a fare loro il lavoro che dovrebbero fare i produttori di incarti e di packaging con una legge regionale e nazionale che imponga questo e non i cittadini che devono smontare l'ammonnezza un pezzettino alla volta. Però quella non si fa per fare la packaging valley sulle vie Emilia. E poi si obbliga i cittadini a fare la differenziata e li si obbera pure con l'aumento della Tari. Danno e beffa. No, no, che il fatto che ci fosse un ritorno economico a patto di essere cittadino virtuoso è stato detto e sottoscritto. Negoziazione di questo processo della differenziata. Questo è stato detto. Chiaramente se non eri virtuoso ci avresti rimesso, ti sarebbe stata aumentata l'indifferenziata. Ma se volevi fare le cose fatte bene, pagavi di meno. Se adesso neanche se le fai fatte bene, paghi di più. No, perché poi io non sono d'accordo su quello che dice Flavio. Atersir impone una cosa e noi dobbiamo prenderne atto. Perché Atersir quando tu non eri ancora incaricato di seguire il discorso dei rifiuti ci voleva imporre quella famosa raccolta differenziata del centro storico che era una cosa assurda. Noi ci siamo puntati e abbiamo spuntato quel tipo di raccolta che credo tutto sommato vada abbastanza bene. Poi come dice anche lui, un ritorno economico ci deve essere. Altrimenti il cittadino si sente dire che la plastica non è plastica se non è la plastica che dicono loro. E questa è un'altra assurdità. Il giocattolo di plastica non è plastica perché la plastica il Corepla ha deciso che sia solamente i contenitori. Allora io cittadino cosa faccio? Devo solo pagare una tassa in più e pagarla e oltretutto diventare matto a fare una raccolta differenziata. Io mi metto nei panni di tanti, soprattutto le persone più anziane che forse sono anche quelle più corrette a differenziare come vorrebbero loro. Il cittadino conferisce. Poi deve essere chi gestisce il servizio a differenziare in impianti che differenziano e che funzionano. Altrimenti non si può, non funziona. Caricata sui produttori e qui bisogna fare un'azione politica anche regionale perché i produttori si assumono l'impegno. Vogliono fare sette incarti? La grande distribuzione vuole mettere tutto nella vaschetta? Si prende lei la responsabilità di pagarlo e dopodiché in base al prodotto si sceglierà quello che vale. Perché io non pago l'incarto perché qualcuno ci deve fare i soldi per produrlo. Poi adesso anche il discorso, Maurizio, che hai detto che è una partita di giro e che il Comune non ci guadagna niente. Questo siamo d'accordo. Io non dico che il Comune fa la speculazione sui rifiuti. Non lo fa. Però andiamo a chiedere dei soldi più ai cittadini. Perché se aumenti, gli aumenti li paga il cittadino. Sì, 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 ma loro possono trasmettere quello che vogliono. Noi qui siamo sette, otto, nove, dieci persone. L'ammetto non ho partecipato agli incontri per cui ho preso il valore che è arrivato a casa, ma come è arrivato negli altri Comuni. Ci sono lamentati anche gli altri Comuni. Perfetto, ma se tutti approviamo ci siamo lamentati per niente. Se invece non approviamo, cominciamo a prendere una posizione seria e responsabile, diciamo, il servizio va rivisto. Tieni conto che però lì c'è un contratto, quindi noi dobbiamo mantenere quel contratto con quelle casole contrattuali che sono state approvate. È stato approvato un aumento da 426.000 euro a 580.000 euro in quattro anni? Cioè, cos'è quant'è? Il 160 è quasi il 30-40% d'aumento in quattro anni. Cioè, lo faccio anch'io la raccolta differenziata a questo punto. Non so perché non so quanto costi questa raccolta in termini pratici. Non l'ho mai... Non ti so dire quanti incide il gasolio, quanti incidono gli operatori, quanti incidono... Adesso mi è venuta in mente un'altra cosa, scusami, no? La raccolta indifferenziata, come è stata strutturata, se è una parte fissa e una parte variabile. Noi paghiamo solo per la parte fissa, perché la quota variabile a caso la non si fa. Non fanno la selezione con le puntuali. No, ancora no. Allora io non ho capito quella parte lì come fanno a gestirla, siccome devono fare la somma di parte fissa e parte variabile. La parte variabile, come viene gestita? Se non sai il misurino che ti fa, l'uomo che ti fa la misura, di quanto conferisci. Certo. La parte fissa. E la quota variabile? La quota variabile andrebbe pagata in base a quante volte, oltre un certo numero di conferimenti dell'indifferenziato e dell'umido, tu se ne fai di più, da lì in avanti parte la parte variabile. Però non è ancora in funzione, ma è una spada di Damocle, perché se ora stiamo pagando degli aumenti del genere, voglio vedere cosa succederà nel momento in cui cominceranno a calcolare la parte variabile. questa è una cosa un po' da mettere in conto. Comunque pensate che Era è la più economica, eh? No, no, no. No, aspetta, vai a vedere a Forlì, dove c'è l'EA, spendono molto di più. Vai a vedere, no, vai a vedere. No, l'EA è più cara. Vai a sentire i Forlì. Guarda, io ho a che fare con le isole ecologiche. Vengano dei forlivesi che si lamentano, perché dicono che a Forlì spendono molto di più. Gli isole ecologiche? Sì, no, che spendono di più nella Tari. Cioè, io sto parlando che non c'è Era a Forlì, c'è l'EA. L'EA l'ho cambiato e... Io non ci puoi far niente. Solo più, solo più. Una volta che l'Atters che mi trasmette il test, e forse sono le specifiche contrattuali che avrebbero viste, ma una volta che hai fatto la gara, chi non finisce la gara non le puoi ristabilire. Ma anche le modalità operative, che direi al consiglio di fare una presa d'acqua? Non le mani. Una presa d'acqua? Ma non è già stato tutto il registrato. Tra l'altro sono dei test che arrivano più o meno a metà aprile, come termine di legge. È il 30 aprile. Tenendo il 30 aprile, si fa anche fatica nelle sedie opportune a fare le qualità di valutazione tecnica. Purtroppo questo è un problema che ce ne sono tutti i miei pubblici. Io attualmente ne ho sento. E quindi vi dico che non il consiglio comunale, ma ancora prima, a quanto riguarda ovviamente l'istituto degli agli, a parte di istituzione, si sta facendo una fatica, in ordine, tanto a comprensere i dati, a comprensere i dati. Perché io non esprudo nemmeno che siano quei test che sono, che sono i test che mi sono i miei comuni, che non mi sono titolare, in quale penso, appunto, che sono degli agli tenti. soprattutto i quotidiani ed è il motivo per il quale il legislatore si è sentito in dovere alcuni pezzi ancora non sono arrivati siamo 22 a presidenza alcuni pezzi ancora non sono arrivati il legislatore non è ancora ufficiale però il legislatore si è sentito in dovere 10 miliardi interna però questa è una cosa che va bene per i comuni che non vanno nelle elezioni per tutti che vanno alle elezioni di fatto bisognerebbe non c'è ancora l'ufficialità però non c'è ancora l'ufficialità nel senso che il regno di NR24 che non è stato ancora approvato dall'attività però per i comuni che vanno a ripeto alle elezioni un po' che vanno a ripeto Grazie. 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 Brzecichello non ce l'ha ancora. Tu prima di Brzecichello, la comuna di Brzecichello non fa il portaporte. Ancora no. No, per scelta, ma prima o poi gli tocca, è piano. No, no, no. Non ti credere che gli vada l'isci. Grazie. Grazie a tutti. 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 no